Seconda edizione della conferenza Comoleic, quest'anno il tema è The Greatest Challenge, cosa ci aspettiamo da questa edizione? Ci aspettiamo diverse cose, la prima è una forte implementazione del progetto originario, questa seconda edizione ha caratteristiche che sono del tutto diverse, sia dal punto di vista del progetto sia dal punto di vista dei contenuti. Ci aspettiamo, l'obiettivo è che Comoleic diventi sempre di più l'appuntamento clou in Europa sull'intelligenza artificiale, sulle reti, sull'innovazione tecnologica e sulla digitalizzazione. Il primo giorno dell'edizione 2024 apre in coda il G7 della tecnologia ed è molto forte in questi quattro giorni la presenza delle istituzioni. Le aspettative secondo noi sono il fatto di trovare un punto di dialogo tra istituzioni, governo, industria, ricerca e tutti i partner, le università e tutti i partner che possono contribuire a un momento di verifica e di riflessione e di integrazione delle singole attività in questi temi che ridisegnano il futuro e di cui non abbiamo certezze anche a livello regolatorio. Su questa prima giornata si è parlato tantissimo di reti, di infrastrutture, quali saranno anche le altre tematiche oltre all'intelligenza artificiale che si affronteranno? Abbiamo l'intelligenza artificiale, abbiamo la sanità, abbiamo il fintech, abbiamo la pubblica amministrazione, abbiamo l'energia, i trasporti. Sono i temi della nostra attualità che vengono appunto ridefiniti sulla base dell'innovazione tecnologica. Se lei sente, in questo momento stanno parlando di reti, soggetti che disegnano con i numeri il futuro della nostra industria, della nostra civiltà, mi vorrebbe dire. Grazie a tutti.